tifosi bianco celesti ben ritrovati con entella time il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo entella domani bianco celesti in campo si torna a giocare un match di campionato al comunale del 16 e 15 arriverà il pescara di zeman i biglietti per assistere al match saranno in vendita anche domani come sempre online su entella.it e alla biglietteria dello stadio come ogni giornata di vigilia la presentazione affidata a mister fabio gallo andiamolo a sentire mi aspetto una partita contro una squadra di zeman quindi con un attacco veloce rapido che lavorano sui tagli e quindi la squadra le caratteristiche dei giocatori poi sono quelle bisognerà essere attenti in quelle che sono tutte le loro azioni d'attacco per sfruttare al massimo nel recupero palla le nostre qualità e fare in modo che le loro lacune possano essere evidenziate eventualmente siamo noi che dobbiamo trascinare i nostri tifosi perché altrimenti diventi diventiamo poco credibili noi abbiamo con le prestazioni con i risultati e i risultati vengono soltanto con le prestazioni fare in modo che il nostro pubblico che non è mai mancato fino adesso possa aiutarci ancora di più. questo mister gallo intervista completa sui nostri canali ufficiali naturalmente nel fine settimana non giocherà soltanto la prima squadra tante sfide anche per quel che riguarda il nostro settore giovanile la primavera reduce dalla bellissima vittoria 4-2 sul Bari gioca in trasferta con il Benevento doppia sfida invece per under 17 e under 15 la forma le formazioni bianco celeste scenderanno in campo con il Renate mentre sarà la propatria l'avversaria degli under 16 di scotto che sono privi nel loro girone doppia sfida invece con la Provercelli per under 13 e under 14 entella time per tutti i commenti l'analisi del fine settimana torna all'ore dì puntuale all'ore 19